Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi è lunedì, come di consueto, analisi gameplay e quale migliore occasione per andare a analizzare la prima volta, la prima volta del buon Principe in Blackie Cup. Quindi oggi ci andiamo a vedere quella che è stata appunto la finale di Blackie Cup di settimana scorsa, se non ero la Blackie Cup numero 101, tra JH7, sfiante tedesco che Principe aveva già affrontato durante il mondiale per club, e proprio appunto il nostro Italian Stallion. Mettetevi comodi, come al solito una bella partita, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, passiamoci subito a gustare questo match. Vedete che attacca da sinistra verso destra in questa prima frazione di giuoco JH7, mentre da destra verso sinistra in maglia rossa del Liverpool attaccherà il buon Danielone, che recupera subito palla con Mendy, poi va ad impostare quest'azione con praticamente tutta la sua linea difensiva. Vediamo, sono curioso di vedere quello che è lo schieramento iniziale di Daniele, che sembra essersi posizionato con un 4-4-2, a differenza di quello che il 5-3-2 che ho già visto utilizzerà per concludere il match, quindi vi spoilerò questa piccola cosina. Vedete, prime battute di gioco che sono di studio tra i due avversari, con JH7 che qui si fa cogliere in fuorigioco con il suo Mbappé. Intanto sì, mi sento di confermarvi il 4-4-2 per questi primi minuti da parte di Daniele. Qui subito l'imbucata dentro verso Mbappé, il tentativo da parte di Daniele di costruire una situazione che potesse essere favorevole ad un tunnel direzionale, cosa che però viene abilmente coperta da JH7 che in queste prime battute di gioco cerca sempre quella fascia destra e adesso abilmente sfrutta l'inserimento di Cristiano Ronaldo che arriva fino in fondo, tira ad incrociare con il destro ma non trova fortuna e non trova il bersaglio grosso. Quindi pericolo scampato per Principe che rimanda in avanti i suoi con questo pallone di Fernandes nella zona di Mbappé. Poi Ronaldo Sanchez, vedete come abbia sbloccato anche lui il buon Renatino e va a fare coppia con Bruno Potm, quindi praticamente replica quello che è il mio centrocampo, un centrocampo veramente super completo, non vi fate paranoie sul fatto troppo offensivo o difensivo, sono due giocatori veramente eccezionali che quest'anno veramente fanno quello che vogliono lì al centro. Gran chiusura qui di Mendy su quel Mbappé, filtrante che però viene abilmente eletto da JH7 che con Sambia, Sambia, Sambia va a chiudere, però si fa cogliere in fallo in questa recupero palla alto da parte di Daniele, driven pass di Bruno che cerca Ronaldo, ma guardate con quanto ardore è uscito quel Gunther, che vi ripeto non è quello di tutti i frutti summer love o don't touch my tralala, ma è un terzinaccio della Bundesliga molto molto valido anche se utilizzato da DC, quindi bel giocatore. Qui ancora una volta è il filtrante a cercare Mbappé, varanno un po' troppo irruento in questo intervento, e quindi calcio di rigore per JH7 che al diciottesimo ha la possibilità di sbloccare il match, match che effettivamente vede il risultato parziale passare sull'1-0 con questo rigore di Pelé, che calcia alla sinistra del portiere andandolo a spiazzare. Principe qui cerca subito di ripartire, ma vedete com'è un attimino imbambolato da quello che è il pressing dell'avversario, che vi ripeto e vi faccio notare che va a cercare di sfondare sempre e solo dallo stesso lato, sempre su questa fascia di destra, sfruttando Mbappé. Adesso finalmente coinvolge anche quella talli nella manovra, ma Renato va a concludere quello che è il disimpegno recuperando palla. James qui va in cavalcata solitaria per cercare di azionare Rashford, ma non funziona questa sortita, con Atal che ritorna benissimo sull'uomo e rimanda i suoi in avanti con Mbappé che cerca Sambia, guardate ancora siamo sempre sull'out di destra, stavolta Bruno Fernandes fa buona guardia. Daniele che sta soffrendo quelle che sono in questi primi 25 minuti le sortite in avanti del tedesco, che su questa fascia riesce sempre poi a convergere verso il centro, sapete la classica azione a scaletta che vi ho detto mille volte, per cercare di liberare quelli che sono i movimenti dei suoi, qua ottima suola più scoop turn, addirittura doppio per cercare di guadagnare ampiezza dei movimenti, un player lock qui abbastanza inutile giocato tra Viera e Atal, ancora poi la palla dentro per Atal, ma Viera sappiamo essere un passatore un po' mediocre, e quindi la palla scivola sul fondo. Trentesimo è quello che fa notizia, è il fatto che Daniele non sia riuscito ancora ad arrivare a concludere, al momento verso la porta di JH7, Daniele che ci ha sempre abituato a prestazioni offensive roboanti, negli anni ha migliorato tantissimo la difesa, soprattutto dall'anno scorso, e quindi è diventato veramente un giocatore ancora più completo, è uno dei top ormai da anni in quello che è il panorama sportivo di FIFA. Qui prova il bridge per guadagnare campo, Babu ancora una volta fa eco a Varane rispetto a quello che è stato l'intervento precedente, ma ci mette meno in ruenza e quindi recupera palla senza il fallo. Sambia si incarica della laterale, cerca Renato, guardate come siamo sempre costantemente sull'out di destra, e Daniele cerchi di stringere un po' quella che è la distanza tra i suoi reparti e le linee nemiche, sfruttando un po' di pressing, che però non mi sembra aver portato un effetto concreto, visto che è agilmente in gestione della gara al momento JH7, quando siamo al minuto 36, ancora una volta Renatino, che va a occupare la posizione nella quale dovrebbe esserci Mbappé, che però ha tagliato dentro, l'aveva visto Pelé, ma è ottima qui la chiusura del tandem difensivo Varane Mendy, che va a mettere una pezza. Qui Mbappé sperava che Ronaldo continuasse il movimento e andasse poi effettivamente a concludere l'azione, qui grandissima giocata da parte di Daniele, che ci terrei a farvi rivedere con tanto di mescolata annessa, perché era tutt'altro che facile questa giocatina qui, perché una volta che Ronaldo arriva a controllare palla nel cerchio di centrocampo, doppio passo, qui avrebbe potuto istintivamente dare la palla a quello che è Mbappé, che si ritrovava al di sotto. Invece la freddezza di fare la suola per andare a liberare quello che è il passaggio sulla corsa di Rashford, che praticamente si ritrova una prateria, è una giocata che per rapidità mentale in tanti non hanno. Però la vera giocata poi sta qui, perché questo angolo di tiro non è per niente banale. Questo angolo di tiro qui va conquistato, ragazzi, e come va conquistato questo angolo di tiro, assolutamente con un tacco-tacco come ha fatto lui. Quindi superato il portiere, a questo punto l'ostacolo era questo difensore, che però JH7 non riesce a far rimanere sulla traiettoria del tiro. Guardate come, insomma, fa un passettino di troppo, e quindi Rashford può insaccare comodamente la rete dell'1-1 alla prima vera occasione, quindi Principe riesce a rientrare in partita, quando ormai mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, con JH7 che cerca subito di potersi andare a rilanciare sull'out di destra con il tandem Bappé-Sambia e la costruzione poi in aiuto da parte di Renato, che penso abbia giocato da playmaker anche in fase offensiva per il buon JH7 praticamente per buona parte del primo tempo. Qui l'imbucata però viene intercettata dalla presenza sicura di Rafa Varane. Bruno Fernandes poi cerca questo filtrantone, come abbiamo visto tante volte quest'anno nella zona di Ronaldo, chiuso però da Dambabu. Allora JH7 cerca quella che è l'ultima azione, Pelé va a prendersi quella fascia lì, ma abbiamo visto che non c'era recupero e quindi l'arbitro va a decretare la fine del primo tempo. Vedete statistiche che insomma parlano chiaro, rispecchiano quello che abbiamo visto in campo, quindi una prestazione che pende lievemente dalla parte del tedesco, che ha avuto di più il pallino del gioco e ha concluso anche una volta in più rispetto a Daniele, sebbene la rete sia arrivata poi in realtà su calcio di rigore. Ma sappiamo che FIFA, insomma, ci regala all'interno di 90 minuti tante emozioni, se l'avversario non vi fa melina, aperta e chiusa parentesi, e quindi Daniele si incarica della battuta del calcio d'inizio del secondo tempo, cerca di costruire un'azione manovrata, prima con Mendy, che trova Bruno Fernandes, poi ancora una volta palla da Mendy, che arriva a Mbappé, che guardate come cerca di gestire il pallone senza fretta, senza andare a rasciare la giocata, senza buttarla via, perché si sa che se la palla la si ha tra i piedi, può sempre succedere qualcosa di buono, se la palla ce l'ha stato l'avversario, invece c'è da soffrire, soprattutto a questi livelli. È proprio quello che succede con il recupero palla da parte di JH7, dunque che ancora una volta cerca di costruire l'azione con i suoi uomini di centrocampo, chiama poi alla ribalta Mendy, utilizzo della trappola del fuorigioco da parte di Daniele per mettere pressione, pressione che effettivamente funziona alla perfezione, perché avete visto come JH7 poi è andato da solo a rifugiarsi in rimessa laterale, quindi regalando il pallone al suo avversario. Qui da queste prime battute mi sembra di vedere un Daniele più in palla, rispetto a quello che avevamo visto durante i primi 40 minuti, quindi recuperare un po' quello che era stato l'inerzia positiva della partita, a partire dal quarantesimo, ed è proprio quello che succede con questa bellissima azione, sempre con annessa mescolata da parte di Neymar, perché guardate qui la costruzione, con Ronaldo che aspetta l'inserimento dei suoi, si chiama alla sortita offensiva Renato Sanchez, ancora una volta, qui lo scambio è bellissimo, perché Daniele nel momento in cui va a settare questa azione ha già tutto in testa, palla che da Ronaldo va a Rashford, da Rashford andrà poi a Mbappé, Neymar per la scaletta andrà a fare questo movimento qua, ed è proprio quello che succede, Neymar va a liberarsi alla perfezione in quella zona di campo, palla poi aggiustata anche con un tocco di suola sul piede mancino, per scaricare, scusatemi sul piede destro, per scaricare, no sul mancino, per scaricare poi la rete del 2 a 1, quindi vantaggio di Principe, che ricomincia il secondo tempo, così come aveva finito il primo, quindi con un giusto mordente, col giusto piglio, e si porta sul più 1, JH7 che deve inseguire per la prima volta in questa partita, guardate come cerca sempre la manovra offensiva dal lato diciamo corto, quello sul quale si ha più visione, quello più vicino quindi ai nostri occhi, Pelé qui, duplice finta a cercare di guadagnare un po' di campo, palla dentro, Renatino Sanchez ancora virà, poi palla per Pelé, guardate Daniele com'è attento però a muovere quelli che sono i suoi pedoni, no? In questo caso ipotizziamo che i giocatori siano dei pedoni, che difendono la porta, e infatti la difesa è veramente impeccabile in questa occasione qua. Sulla fascia Cancelo aziona Rashford che poi chiama l'1-2 con Ronaldo, però purtroppo non riesce, in questo caso Cristiano a controllare palla e a ricambiare il favore al suo compagno di squadra, e allora gli azzurri riprendono il pallone con Atal, che però si impapocchia lì sull'out ancora una volta Mancino, e rilancia l'azione Daniele con Renato che va a servire Marcus Rashford, ma qui il tentativo di tunnel non va. Una cosa che volevo farvi notare è come Daniele vada a cercare meno il tunnel, almeno per quanto riguarda questa partita, rispetto a quello che avevamo visto in quelle che erano state le partite ad esempio del Mondiale del Club, o insomma quelle che erano state anche le partite giocate contro Adriman, eccetera eccetera, dove c'era stata una costante ricerca del tunnel direzionale, ora è un qualcosa che Daniele cerca di costruire lievemente meno, andando magari a fare affidamento su quella che è una costruzione della manovra, invece un po' più pulita sotto questo punto di vista. Stessa cosa sta cercando di fare JH7, muovendo la palla dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'esterno per cercare di aprire un corridoio che possa regalargli la gioia del goal. Player Lock qui per mandare in profondità Pelé, però la skill è preda della difesa. Player Lock che vi ricordo non è altro che quel selezionare il giocatore con i due analogici, poi insomma mandarlo e chiamarsi il passaggio con insomma il tasto del passaggio normale o con quello del filtrante. Vedete che qui aveva cercato nuovamente di attivare questa meccanica, meccanica che però in questo caso fallisce e si rivela a fine a se stessa. Qui è ottimo il filtrante di Principe nella zona di Mbappé, vanda a vuotissimo l'avversario che si era lanciato e scivolata, e mescolata del 3-1 per quello che è il goal che probabilmente diciamo fa assaporare la vittoria del torneo a Daniele perché arriva veramente in un momento cruciale del match sulla pausa dell'avversario. Qui non ha fatto niente di insomma difficile. La giocata errata è stata quella da parte di JH7 perché aveva tutto il tempo di poter andare a coprire con il difensore piuttosto che fare la scivolata scappando all'indietro invece con questa scelta ha spianato la strada a Mbappé che poi addirittura per poter prendere un boost nella conclusione va a fare un bridge e poi a tirare di prima intenzione sul primo palo che quest'anno insomma sembra essere ritornato molto molto efficace a questo punto del gioco, quel tipo di conclusione lì. JH7 che ovviamente però non ha intenzione di arrendersi perché 14-15 minuti più recupero su FIFA sono una vita, lo sa bene anche Daniele che di fatti cerca subito di ripartire all'attacco qui forse avrebbe potuto servire Bruno perché guardate qui è ottima la giocata con Suola, si gira, qui c'era una prateria c'era Bruno che arrivava completamente libero in questa zona avrebbe dovuto poi chiamare Mbappé alla diagonale e si sarebbe ritrovato praticamente Mbappé in 1v1 con Zambia pronto a poter ricevere e scaricare il pallone quindi qui forse un eccesso di pazienza, di cautela da parte di Daniele che invece avrebbe potuto usare qualcosina in più. Qua ottima la giocata, guardate Bruno come cerchi disperatamente di farsi vedere però ancora Daniele che perde un attimo appunto il tempo della giocata però Vidal fa un grandissimo intervento, recupera il pallone qui ancora una volta la palla che viene scaricata nella zona di Bruno ma facile preda della difesa visto che ormai si trovava a spalla e la porta e non era un pericolo per i suoi avversari Pele qui cerca il filtrante nella zona di Ronaldo centrale vedete come JH7 abbia un attimino fatto saltare qualsiasi tipo di schema e stia cercando un po' la giocata verticale per far saltare il banco sparigliare un po' le carte e cercare il gol che riaprirebbe tutto qua un brutto passaggio di Daniele nel cerchio di centrocampo ma una scivolata che di contrario invece è molto molto efficace con Varane che entra a cannone, recupera il pallone addirittura rischiava di diventare un assist se Mbappé non si fosse trovato in posizione di fuorigioco minuto 85 palla girata in fascia nella zona di Neymar contrasto di Cancelo che scivola comodo comodo sul fondo con Pop che va al rinvio nella zona di Cristiano che ovviamente non può perdere un contrasto del genere se anche il passaggio è andato a vuoto ha fatto in qualche modo perdere un tempo di giocata al suo avversario palla che poi dai piedi divierà finisce nella zona di Pele GH7 e qui cerca la costruzione della manovra e questo è un gran gol questo è un gran gol perché guardate come spalla alla porta vado a fare il lavoro sporco Pelé perché già ha visto che Mbappé ha messo la sua manina in posizione di inserimento quindi vuol dire che Mbappé sta arrivando GH7 l'ha visto lo sa lo serve è la genialata il colpo del maestro è la finta di tiro sul controllo per distaccarsi da Vidal e concludere subito di prima intenzione come vi ho fatto vedere anche nel tutorial quindi bellissima giocata di GH7 che ha due minuti dalla fine più recupero riapre tutto quindi andandosi a insomma a avvicinare a quello che può essere il pari isperato cosa che sembrava totalmente isperata fino ad ora Daniele però ovviamente vuole cercare di evitare questa cosa visto che insomma c'è una bella gruzzoletto in ballo come ogni Blackie Cup Vidal recupera un bel pallone cerca di lanciarsi però perde palla quindi in realtà concede quello che è il rischio dell'ultima giocata a GH7 Pelé però è imbottigliato tra Bruno e Vidal Vidal per un pelo stava per concludere l'azione arriva Neymar a rimorchio ma l'arbitro decide che può bastare così quindi Daniele Principe che porta a casa la sua prima Blackie Cup dell'anno alla sua seconda partecipazione tra l'altro per aver partecipato alla Blackie Cup numero 100 bella bella partita questa nonostante l'avversario sia stato molto messo bene in campo abbia avuto anche per lungo tempo il pallino del match Daniele invece è riuscito a segnare quando contava e a giudicarsi il match per 3 a 2 raga spero che questa partita vi sia piaciuta fatemi sapere nei commenti vi ricordo un like iscrivetevi al canale in descrizione trovate le info per le live sulla piattaforma Viola ogni giorno un salutone un abbraccione dal vostro Liberoschi buona giornata raga ciao ciao